Ciao, questo è il solito video che facciamo il mercoledì sul nuovo numero di Topolino che siamo arrivati al 3570 che ho visto che in questo volume c'erano sei storie tranne magari l'ultima che prende come hanno già portato magari a fare in altri volumi magari sempre qua di Topolino che prendeva l'ultima trama e la solita che prendeva solamente una facciata che è come si dice che si chiama Battista Maggiordomo Esistenzialista che era proprio la trama si chiama Date che è la storia di Roberto Gagnor e Simone Tempia e disegni e lechine di Carlo Limido il colore di Diana Laudando che in questa ultima trama che si vede all'ultima pagina che hanno già provato magari in altri volumi a mettere questa ultima trama così all'ultima pagina dopo iniziando proprio col volume ci sono le altre cinque storie che è la prima che si vede come si dice è il primo episodio di tre di Topolino e la spettralia antartica che è il primo di tre che sicuramente andrà avanti con i prossimi magari volumi che la storia di disegni sono di Cassi e lechine di Michela Frare e il colore di Manuel Giarolli che come trama magari ci poteva magari anche stare come disegni magari sono sempre magari i soliti che si vedono magari qua su Topolino poi con la seconda trama che è proprio l'ultima di quattro del mondo di ghiaccio che si chiama proprio Amelia Oceanica contro le streghe vulcaniche che la storia di Bruno Enna e i disegni e lechine di Giuseppe Facciotto e il colore di Manuel Giarolli che ho visto magari la parte marea dei disegni di questo nel mondo di ghiaccio ci potevano magari anche stare come negli episodi magari precedenti che c'erano con questi magari come si dice con le solite magari magari come erano marea impostate marea le tavole sono diverse magari anche dal solito che si vedono magari su questi volumi magari di Topolino e anche magari con queste bordature magari un po' dei personaggi magari un po' più come si dice più marea accentuati che magari che questi magari certi tipo magari questi tipo di disegni magari anche di tavole così e con questi magari colori un po' così magari accesi con foto marea di solito marea da parte marea mia magari le preferisco magari ad altri che magari fanno di solito poi andando avanti con la terza trama che si chiama Zio Paperone il risparmio in bolletta che la storia di Marco Bosco i disegni e lechine di Valerio Elde e il colore di Vantina è sempre di Vantina Mauri che magari anche questa parte ci poterà magari anche stare sempre come si dice in questa parte magari certi magari come si dice quando c'è magari queste magari trame con proprio zio che c'è dentro Zio Paperone magari a me magari piacciono magari anche sempre queste trame qua con Zio Paperone e niente andando sempre avanti con con la quarta che si chiama Gli Allegri Mestere di Paperino Servizio compreso che la storia di Tito Faraci disegni di Enrico Faccini e colori di Chiara Bonaccini e che magari come trama magari ci poterà come trama magari ci poterà magari anche stare che come disegni magari sono sempre magari i soliti che si trovano qua magari su Topolino poi come trama magari nel compresso magari ci poterà magari anche stare poi l'ultima la quinta quinta trama che è la casa delle storie delle storie e qui con qua è l'avventura di Archivio che è la storia di Marco Bosco i disegni di Blasco Pisa Pia e colori di questo Dano Gabriele D'Aprile che anche magari questa come questa ultima magari trama magari ci poterà magari anche stare che magari quando capita questi volumi con magari con trame magari un attimino un po' più lunghe che magari confronto ad altri magari io magari le preferisco che magari che magari come si dice magari da parte mia previsco magari ad avere magari su un volume magari anche meno storie però quelle poche magari fatte ma è anche bene che ho visto che hanno sempre messo magari anche la parte ma è la parte ma è l'angolo dei lettori che hanno pubblicato le foto della gente che magari ha mandato proprio la loro foto ma è lì in redazione di Topolino che come cosa questa qua dell'angolo dei lettori sempre magari da una parte sempre bella che come solito prima ho visto che hanno messo magari anche il solito magari step come si dice come produrre i vari step per creare magari questi personaggi che si vedono magari su Topolino che hanno messo come al solito anche magari come si dice già magari la cover di Topolino magari di settimana prossima il 3570 61 che è questo che ho visto che ho visto che a parte che con un anno ma è di Topolino con l'abbonamento che se ti fai l'abbonamento con Topolino tu puoi ricevere ma è anche un piccolo sicuramente ma è un piccolo drone sempre di assieme 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 a Topolino e niente che c'è a parte magari la cover di questo volume l'ha fatta ancora ad un mastantuono che c'è sempre lo sketch all'interno della cover e il solito magari il sketch di Silvia Ziche in prima pagina e niente quello che magari potevo dire su questo volume magari di Topolino magari l'ho già detta e al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto magari sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao